Ehi, dammi la palla, cambia, andrei, usa questa. E per il Lugans, il pit, urrà! 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 Dai, dai, dai! Bravi, bravi, bravo Parodi! Dai ragazzi! Bravi! 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 Alzatevi! Andate! Bravi! Bravi! Oh, placare! ha le gambe le gambe calcia bravo Franci o marabu, rai, cristian per favore, luca chi parte di voi, battiamo in tre non portiamo da solo, se uno parte gli altri due devono farlo uno per andare a arrivare primi a sostegno e se no no, ci stai dicendo quando nel gioco aperto, facciamo i giocati da tre uno parte e due sostegni piuttosto andiamo in ciccinini più piano ma uno parte e due sostegni, sicura la palla subito a pulire, subito la palla a Yadis subito la palla a Andrea e andiamo a giocare là ce l'abbiamo, ci abbiamo Sandu che sta giocando bene stiamo giocando vai 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 fine vai fine, vai vai tieni solo luca, luca no bravo Omar dai dai spingere spingere dai la palla dai bravo Omar è solo e avanti ci aveva lui la palla blavo Grazie.